Ciao, sono Chiara Ricci, sono una conservation scientist e lavoro nei laboratori scientifici del centro di restauro. Ho studiato all'Università di Torino, ma molto presto il mio percorso accademico mi ha portato a incontrare e a conoscere il centro. Per la mia tesi magistrale infatti ho partecipato a un progetto per la messa a punto di un apparato per analisi di radiografie e TAC con i raggi X per opere di grandi dimensioni. Proprio con l'apparato che si trova attualmente presso il centro, la prima opera che abbiamo analizzato è stato un grosso mobile, un cassettone a ribalta dell'ebanista Pietro Piffetti ed è stata un'esperienza davvero emozionante e incredibile che ricorderò per tanto tempo. Infatti dato le grandi dimensioni dell'opera, l'acquisizione dei dati ha richiesto ben otto giorni continuativi di lavoro. Quello che amo del mio lavoro è che è molto vario, ogni nuovo progetto, ogni nuova opera che si analizza è come un incontro e quindi permette di scoprire e conoscere cose nuove. Tra le attività principali che porto attualmente avanti al centro di restauro c'è un progetto europeo, il progetto Campus, che si occupa di conservazione dell'arte pubblica e in particolare di opere di street art. Collaboro anche con i servizi educativi del centro con cui proponiamo a studenti di scuole di ogni ordine grado diverse attività didattiche. Vorrei salutare tutti, colleghi, studenti e anche le persone che ci vengono normalmente a trovare al centro e che speriamo presto possano tornare a farlo. Ciao a tutti!